Ciao Tessori, buongiorno e benvenuti ad un nuovo video Ma questo non è un nuovo video normale Oggi siamo in un Chiara e... Laia in cucina In realtà stavo per andare a fare un dolce Che si chiama rotolo alla Nutella Io ho delle uova, della farina, della antella e dello zucchero Esatto E abbiamo una ciotola per me colare io Amore, mi porti un fazzoletto, tanti fazzoletti? Cominciamo con le uova Grazie mille Le uova Io mamma Le uova Io faccio Si, si, con Carla Le uova, si, si, allora Io qui ho la ricetta Perché apro Allora Facci, facci Facci Dentro, dentro, dentro Dentro Ok, si, si, è andata È andata Ok, ok No, 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 no No, no Allora No, 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 no Bene No, mamma No, ho fatto casino io Ok, si, ok Vabbè Ah, no, putza Eh, sì Ok Ah, aspetta Concentrati Non ti sento concentrata Ok 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 Ti prego Ti prego Dentro Bene Non è pilo off, amore No No, no, Lara Non la Lara Non con l'uovo crudo, mami Non così Tanto enfasi Dove ti è finito, gioia? Ok 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 Sei l'uovo di uova Per i prossimi 50 anni Beh, beh, beh Allora Allora Calma Dovevo vedere se ci stanno Trez Che soffi? Ciao, mamma Allora 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 Questo uovo Concentrati Questo uovo È lì Io Ok Piano Stavolta Piano, piano Piano, piano Piano Concentrata Bravissimissimissim Madol che bijou Guarda Prego Non ci incischi No No La cosa non parla Eh No Via Concentrata Ok Abbiamo una Pro Se Se No No Se No Devo iniziare a montarle No Io Benissimo Devi iniziarle a montare Alla tecnica Signore Aspetta Non sapete che Sono appagliare? Sai che servirebbe anche a te Un qualcosa Per raggiare No No Lei la coda Ma Ma siete matti La coda Mentre si cuci Ma noi non ci inventiamo cose Posso dargli una frustatina io cara? No Penso che resteremo qui per i prossimi 50 anni Quindi Bassa Ha deciso lei Lei è una donna che sa Lei sa Quando è il momento di smettere O di continuare Perché lei può smettere quando vuole Bene Dobbiamo aggiungere un pochino di zucchero Ora Non so bene quanto zucchero C'è scritto 115 grammi Allora questo era un chilo C'è anche quelli Tu mi preoccupi stella Allora vai Giugiamo piano piano No Piano piano ho detto mammi Piano 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 E piano piano Mimmi Allora Vai mammi vai 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 Piti piti Dammi la farina Mattimo Dammi la farina Un attimino Intanto parla del tempo amore Allora Noi ci dobbiamo mettere tanto a girare A girare Mamma A metterci Non del tempo che ci mettiamo a fare le cose Ma del tempo se fa freddo Non dovevi parlare del tempo Nel senso che ci mettiamo poch minuti Ma dovevi Ho fatto bene a rimettermi questa Questa fila Non è uguale a quello Ma perché Ah ma lì c'è scritto che si è tacciare Ah ah Ben ti sa C'è la tutela di si è tacciare però Vabbè è uguale Vai E De Le E beh E le Ma perché Mi sembra che sta fava È molto più cated È molto più cated il tuo acqua Ma la smelti Ma la smelti Coltola della panina Complimenti Complimenti a me Come volevasi dimostrare ogni volta Ogni volta che dobbiamo fare un qualcosa Io finisco sempre per sporcarmi Ma perché? Ditemi perché Perché se no Stavo scendo davvero Questo Raga Stavo scendo letteralmente Stavo scendo raga No Grande mag Non è ancora uguale a quella Allora ma io ci aggiungerei un altro pochettino di farina Spegnete Spegnete la macchina Voi se c'hanno la macchina per fare Bello Io ho tutto muscoli Senti che muscoli Senti che muscoli Senti che muscoli Altro che macchina Ma c'è anche una carta a corno Questa carta a corno non facciamo niente Abbiamo? No Direi basta Io vado a prendere la leccata Lara da questo dipende la riuscita del dolce Calcola Quindi è molto importante A me non piace Questo odore non ti piace? Secondo me è molto buono Aspettiamo che cuoce E ci rivediamo tra pochissimo In chiare all'aria vicino Questa non succede mai Però sarò un attimo da sola Per spammare la Nutella Perché ancora brucicchia un pochino Quindi Sarà un passaggio che faccio da sola Non ci voglio che Oh mio Dio mi sta per mettere a piangere Si sta spezzando No sta venendo Cioè è brutto brutto? Sta venendo Vabbè questo è mio Venendo Dai Ok è finito Eh Sì La fai Cortina Tu prendi questo Grande Io prendo quello Allora Che poi il bello Che mi stavo per sbagliare Perché Stavo per mettere la Nutella Solo Oddio Solo da una parte Quindi sarebbe venuto vuoto dall'altra No vabbè Per carina è brutto Però è uscito Che contentezza Sì È buono Che piace? A me non piace Dove piacciono i dolci però Buono è buonissima Non è che non mi piace Perché non è un salame di cioccolato Una girella Quindi Mi piace tanto Tè Tori ci ho creduto fino alla fine Ma a quanto pare anche questo è un flop Quindi Non è piaciuto Non è piaciuto Si chiama di piacere Già No non è vero è buonissima Non è vero è buonissima Si chiama di piacere È buonissima Non mi piace No no Molto di piacere No 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 È il mio piatto preferito Batti 5 È un mattone Carissimi Anche questa videoricetta è finita qui Io sono molto Ma non è finita qui Perché no? Da me e da sto coso è tutto Io sono convinta comunque Cioè il sapore non è così male Nel senso se tu Non sai Cioè se metti un po' Mella zuntella Forse si sente un po' L'uomo Ma non è male A domani tesori Sempre qui Sempre su questo canale Ore 14 e 30 Tutti i giorni Ciao